Eh, nel canale al centro, se c'è neri. Però quando siamo arrivati qua? Non ce ne sono. Ah, nessuno? Siamo giusto quattro gatti. Ma va, nessuno. No. Quando noi ci abbiamo provato, si è perso dalle nuvole, era più o meno così. Allora, ecco, Giulia Pittocchini. C'era un po' di neve, ma ovviamente non è abbastanza. Però poi da sotto si è lasciato. La sveglia di stamattina. Sì, è facilissimo. Però almeno ti sento, però, ti vogliono portare gli cibi. Beh, questa è stata la mia prima scelta.